4 l'undicesima missione facciamo oggi e abbiamo daniele già con noi ciao a tutti e massimo dovrebbe arrivare momenti poi se qualcun altro si fa vivo ma non penso di no perché è tempo di vacanze quindi solo noi diciamo stiamo a regge fare il baluardo che fabio e di solito lavora a quest'ora gli ha mandato un messaggio vedo che l'ha ricevuto ma non l'ha letto quindi sarà troppo impegnato qui domenica ma lui fa manutenzione coi treni cioè alle cose elettriche delle stazioni quindi non è che può scegliere tanto dipende come lo il periodo in cui lo chiamano si deve adattare ok vediamo se mando un messaggio al massimo massimo al volo se no cominciamo con la traduzione perché anche questa bella lunga e come sempre mi sa che quando la traduzione è lunga la missione è corta quindi sa che conviene lei facciamo una prova se ci sono solo io scendiamo il getter fai tutto da te faccio tutto adesso devo darsi che è aspettiamo un minutino sa cos'è che bisogna ricordarsi che ci sono da assegnare ancora tre oggetti che hanno ridanno 2000 punti di vita abbiamo cambiato le cose l'altra volta magari cominciamo a dargli un'occhiata mentre che aspettiamo massimo così almeno slot numero uno che controlliamo ok guardo tanto aspetta guardo gli oggetti che sono liberi sì solo questi tre che è quindi la nave madre qual è la nave madre sa che non me la ricordo dovrebbe essere questa però no no ancora la nave bianca aspetta che andiamo sul potenziamento così vediamo il nome questa quasi argama 5500 gli abbiamo dato ah le abbiamo dato l'energia ma ancora non ce l'ha dopo gli dobbiamo no bisogna andare a prendere infatti questa è la missione che bisogna andare a prendere la nave bianca la nave nuova quindi adesso gli levo la ricarica energetica perché ancora non ce l'abbiamo le armi energia e gli do un po' di vita più questo è movimento più uno e più cinque di agilità c'è una casella in più e cinque di mira schivata quindi abbiamo ancora due ecco arriva massimo mi sa ok aspetta che un attimo che vedi che allora uno me lo grabbo io se avanti lo metto un getter 2 ok dice che arriva tra due minuti allora ti trasformo in getter 2 e un altro si potrebbe da una zinga che c'ha tanti punti ferita una zinga forse ce l'ha già perché questo è già sei getter 2 vediamo adesso ah non c'è niente così ma ginga z ok ma ginga z ha 50 energie e 150 di energia che facciamo cosa scusami ricarica di 50 e c'è 50 e 150 e a chi le diamo il 50 chi ha certo che c'ha il mio energia eh ci sarebbe il Dan Koga mi sembra ancora unito eeeh il coi daimos daimos già e prima di chiamo al daimos ok già ci ne ha uno il daimos vabbè gli diamo due tanto non c'è tanti che vanno energia che è allora io faccio questo aspetto e prendo il video per la per la traduzione vecchia così ci organizziamo come c'è sempre 2000 cose da fa e mi ne dimentico sempre qualcosa tanto il massimo è la vecchiaia è la vecchiaia ormai quando si passa i 40 ogni giorno conta spero di non arrivarci di arrivarci il più tardi possibile l'importante è arrivarci con un po' di test perché ti muovi se c'è gente arriva a 100 ma sta 10 anni nel letto quindi non è proprio la migliore delle opzioni ok vediamo un po' questo qua metto dentro il video qua e andiamo a slevare il volume sì che poi l'ultima volta abbiamo fatto un bel po' di di calcoli ok quindi non è proprio la fine perlmeno qua sarà tanto vediamo se arriva a massimo non ancora guarda se c'è qualcuno nella chat quindi vorrei chiudere di solito viene querino se no gli chiudo ok se il copiere si decidesse a partire io lo farei anche gli farei anche la traduzione ok allora questo che non vuole io vi preparo di qua che è qui e qua ci sono vediamo se parte non parte grande ogni giorno ogni volta che succede qualcosa non c'è mai una giornata che va dritta senza problemi si sente malissimo diceva ah perché forse sta caricando ok è arrivato massimo ciao massimo aspettiamo che parla lui sta scrivendo invece di parlare no non ti sentiamo eh non ti sentiamo per niente vediamo stiamo al microfono vediamo un attimo se massimo ah qua mi è andata avanti mi sono distratto vedo c'è la traduzione qui ok quindi giusto è il punto giusto ok io qua sono tutto apposta appena la massa è pronto parto con la traduzione andiamo pure se massimo mi sente io potrei anche già cominciare a leggere massimo mi senti ok allora comincio mentre te sistemi il microfono io comincio a leggere e poi ci fa sapere appena sei pronto tanto posso rilegge se mi interrompi non c'è problema ok questo è Kazu quello che era sul Gundam una specie di aeroplano che è venuta aiutare poi si chiama la ragazza che era scappata non mi viene in mente la sorella del Daimos di che è ah quella ragazza è caduta a terra sta ancora respirando che si riferisce a quella che abbiamo fatto fuori alla fine esatto così che poi è la terza volta che succede questo qui ah c'è una ragazza c'è una ragazza in terra ogni volta ogni questa è l'undicesima missione ogni tre missioni più o meno ne trova una ok massimo allora sconnettiti e rientra ti aspettiamo un attimo qui nel frattempo il video va avanti perché noi si stava chiacchierando di qualcosa vabbè tanto la faccio scorrere un attimo finché Massimo torna con noi e che è questa è Sara che prendete non dice niente finché è svenuta farà un po' di rumori così che sogna 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 finché finché sei ancora in vita questa ragazza l'ho già vista questa è la pilota o il pilota non so non sono sicuro Kami è il pilota eh Zatagunda dal disegno non si capisce bene eh dunque pilota della Zatagunda il sesso lo decidete voi eh questa ragazza eh è un maschio è un maschio che vabbè quando non l'ho mai vista la serie Zatagunda lo so che è una bella serie ma è noi se qualcuno cominciasse dei Gundam e unisse a noi sarebbe una cosa buona tipo Diego ok ok questa ragazza l'ho già vista se ricordo bene lei faceva parte del scirocco il scirocco se no sono quelle si bravo la fazione del vento avversario ah giusto Sara Zabia Zabia Rof mi sembra a che Sara risponde che questa è un'altra Sara questa è quella di Dancoga ha il mio stesso nome che coincidenza e chi se ne frega vabbè perché stavo aspettando Massimo bisogna entrare a tenersi si si no ma dico loro lo fanno perché sanno che Massimo ha dei problemi loro stanno facendo un dialogo così capito giusto se lo stanno aumentando ok è giusto svenuta comunque portiamola in infermeria e la portano in infermeria come al solito settores la argama è arrivata ok questo si chiama Henken ehi è da tanto tempo che non ci vediamo capitano Bright è un po' tardi ma ma aspettiamo Bright no non c'è problema grazie ho portato personale ai rifornimenti a Mobile Suite in questo modo dovrebbe essere più facile Kami qua dice Judo e Shibuk stanno combattendo contro il Neo DC nello spazio le fiamme della guerra si stanno espandendo è un Jegen eh perché qualcuno sta combattendo nello spazio no prima e presto andremo anche nello spazio si è un Jegen è stato Jegen non so cosa sia è stato rifornito tutto il personale nella vecchia astronave è pregato di trasferirsi ah si parlerà forse della tipologia di astronavi forse la classe non ne so non ho fatto la ricerca su questo mi sono dimenticato chiede Venia a proposito non vedo il lugotenente Emma che cosa è successo questo è il pilota di Gundam appassionato di super robot Emma si sta riposando in una stanza privata devo chiamarla ah se sta bene va bene non è un gran problema per favore salutamela stai cercando di trattenere i tuoi sentimenti questo è Fabio Chialino Occhialino Occhialino ormai è diventato il suo nome Torres Capitano il nemico sta trasmettendo un messaggio in tutto il mondo in mondo visione siamo Ricchite questo è il nemico di quelli del daimos Ricchite o Ricchite in italiano è Ricchite ok Ricchite sono Ricchite il comandante del pianeta Bam e della squadra di invasione della terra i Bahmesiani o i Bahmesi non lo so come si traduce ciao Massimo adesso ti sentiamo bene hai perso poco della traduzione o forse hai sentito qualcosa no niente ho sentito tutto ah vabbè comunque hanno trovato come al solito una ragazza svenuta è la terza va bene ormai si si fa la collezione di ragazzi svenuti e niente quindi si sono spostati è arrivata l'astronave nuova la nave bianca nuova si chiama Argama e adesso c'è questo questo qua sopra che presente è il nemico della serie del daimos che vi ricordo chi gli interessa c'è il link delle serie nei commenti e niente quindi sta mandando un messaggio nel mondo visione e dice sono ricchi che il comandante del pianeta bam e della squadra di invasione della terra e lui dice ah gli alieni di bam o i bahamese o i bahamiani non lo so a che Erika sussulta e Kazuya dice che cosa succede Erika Erika non arriva a a e lui Rikitel continua a parlare e dice ci siamo alleati con Divine Crusade che sono i DC altre volte mi scordavo che cosa sono DC Divine Crusade che sono mossi dallo spirito della fede e sconfiggeremo lo sporco governo delle Nazioni Unite Terrestri che siamo noi c'è ragione con tutto l'inquinamento che facciamo mi sposto sarebbe meglio ci conquistassi esatto che si viva tu codardo ti sei unito con DC tutti quelli che stanno ascoltando questo annuncio a tutti quelli che stanno ascoltando il nostro annuncio il nostro nemico è la cordata il nostro nemico è la codarda federazione quindi se non ci ostacolate non faremo male a nessuno ah doveva essere FC no federazione codarda no quelli siamo noi FC DC sono quelli di coso dove c'è il barone Asciura e gli Zaf bravo loro sono DC prima di tutto faremo un attacco massiccio massiccio al laboratorio domani te lo dico prima di tutto faremo un attacco massiccio al centro ricerche Satome in Giappone alle 8 di mattina alle 8 di mattina te ci sei? si per difendere il centro Satome ci sarò ok centro Satome è dove hanno fatto il getta robot e quello ci deve andare capito Massimo è il robot di Daniele si sente finito nell'orgoglio infatti attaccano il centro Satome perché quello sanno che è il punto di forza le persone del governo delle Nazioni Unite Terrestri che non si vogliono umiliare devono far giustizia alla nostra rabbia e che abbiamo Koji il laboratorio dell'istituto Satome dobbiamo impedirlo dobbiamo partire immediatamente che poi è scritto un po' in modo diverso comunque centro ricerche Satome in italiano ok ah è un gran problema Miciru sarà si chiederemo aiuto al personale dell'ufficio generale io prenderò cura del Troy Horse voi ragazzi utilizzate l'Argama che è la nuova la nuova astronave erica allora c'è l'Argama adesso ce la danno adesso però nei settaggi prima non lo potevo prendere cioè non me la faceva vedere nell'upgrade capito quindi non ci si poteva potenziare non lo so forse me la faceva potenziare potenziamo dopo eh non lo sapremo mai questa cosa del potenziamento finché non andiamo con il getter G quando c'è le parentesi tonde vuol dire che sta pensando quindi erica sta pensando ah adesso ricordo chiaramente io sono un'aliena di Bam sono nemica di Kazuya ma ma io amo Kazuya che cosa posso fare grande voce da donna che ho fatto e Kazuya Erika tutto a posto dove stai andando e mi stai andando aspettate che ho perso il filo ho letto la riga sbagliata prima vabbè prima diceva ah eh questo è mio fratello sono un abamese è così adesso dice oh sono io un'aliena ho invertito ho saltato una riga scusate comunque il concetto è quello lì cioè il capo è il fratello di lei bravo dell'aliena sì per fare l'ha riconosciuto lei c'è rimasta scioccata adesso gli è tornata la memoria e niente dice che sono un'aliena cosa posso fare e Erika e lei gli fa un bel punto interrogativo come risposta punto esclavativo in punto interrogativo aspetta Erika che cosa sta succedendo lasciami lasciami Kazuya io sono io sono ti sei ricordata di qualcosa Erika no non ancora niente allora io sono io era il naso come Pinocchio mai fidarsi degli alieni non so cosa stia succedendo insegna tanto cosa? questo gioco insegna tanto esatto esatto ma poi aspetta io non lo so non me lo ricordo il cartonimato perché non l'ho visto moltissimo ma in realtà loro c'hanno le ali non so dove lei nasconda le ali le ali tipo angeli quindi come non abbiano mai notato è un buon mistero ok non so cosa stia succedendo ma sono sempre dalla tua parte sarò la tua guida grazie grazie bravo ci vorrebbe qualche ragazza è più convincente ci vuole qualche ragazza qui tra noi in modo che fa la voce appropriata ok Massimo cosa abbiamo fatto mentre te non c'eri abbiamo no abbiamo dato degli progetti di potenziamenti della vita che non ce l'avevamo dimenticati quindi niente di che ok abbiamo dato una all'astronave una stavo pensando una cosa di potenziare il mettersi nuovo adesso o a fine missione a solo a fine missione ok no poi fa anche adesso basta che mettersi nuovo sulla mira ok anche lui è un cecchino per me ah ok sì anche questo però ricordiamoci perché non lo sto segnando sull'excel 5.000 qualcuno se lo ricordi lo faccio bravo ce lo scorderemo sicuramente si può Massimo Ruba perché già un miliardario non si sa come ha fatto ha fatto tutti i cosaggi aspetta faccio come si chiama io lo chiamo reggizetta 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 esatto reggizetta roba del genere più 5.000 velocità con l'accento se l'ha fatto in questo modo perché non ho la tastiera italiana ok quindi a posto ok quindi questi li abbiamo dai suoi soldi dopo e partiamo che anche qui ce la fa una bella chiacchierata questa è fa che è la pilota appunto del Metast 2 eh ma è tutto a posto non hai salutato il capitano Enken tutto a posto a proposito che cosa pensi del capitano Enken eh di che cosa stai parlando fa stai chiedendo stai facendo finta che non ti interessi sembra che ti interessi in realtà sì ma c'è anche una differenza d'età eh capito la differenza d'età purtroppo non si può fare niente eh esatto Sara eh si sta svegliando che posto è a questo cazzo questo è quello dell'aeroplano nuovo ti sei svegliata quello è il tuo favorito ah il favorito di Daniele in realtà che insisteva per usarlo è un maschio una femmina eh no penso sia un maschio eh chi sei chi sei che posto è a questo che sia questa è l'infermeria dell'Argama sei stata scaraventata fuori dall'espulsione del tuo robot e sei svenuta perché era difettoso se se fossimo stati nello spazio sarebbe stato un problema questa è quella che hai fatto fuori alla fine della missione scorsa ti ricordi sì 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 quella che te scappavi col canarino due è questa qui quella che ti spara col fucile da cecchino me la ricordo beh adesso te la ricorderai ancora meglio eh niente lui fa qualcosa beh lei non dice niente qualcosa non va ha dolore da qualche parte vergognosamente sono caduta nelle mani del nemico siamo nemici ti sparava ti sei domanda sì il signor babetumas è stato ucciso da voi non vi perdonerò per questo anche per noi re coa è stato ucciso da voi dello scirocco non crede di essere l'unica vittima che cosa ha intenzione di farmi se vuoi uccidermi fallo in fretta se mi prometti che non tornerai ad unirti a DC ti lascerò andare eh questa è la seconda che vogliamo far scappare capito cioè mi muovi si sbudinava dalle risate e altro ma qua secondo te lei non lo fa guardandoti negli occhi in qualche modo penso che tu non sia una persona malvagia sei sicuro? mi lascerai andare? ah si te l'ho detto ma promettimi che non ti unirai mai più con i DC ho capito sei sicura? allora seguimi posso preparare un WAPA un WAPA è praticamente un mezzo di trasporto che c'è nelle serie di Gundam che adesso ve lo faccio vedere giusto perché l'ho cercato l'altro giorno sennò ho fatto la ricerca per niente eccolo qua questo qui così non vi do spiegare che cos'è io non vedo niente ma come non vedo anch'io è invisibile WAPA è invisibile ah eccolo oh ma sembra quello della seconda guerra mondiale sì evidentemente hanno che costruito nella realtà esatto c'ha le eliche sotto e niente vola è una motocicletta esatto questo quindi vuoi dare uno di questi per scappare praticamente per lasciarla libera esatto tu devi poi come la missione precedente quella lì apri il portellone se ne vado e vai senza chiedere permesso ma come io non ho ordinato niente ognuno fa quello che gli pare questo cosa esatto cioè non c'è un'attualità militare ok esatto come ti chiami e lui risponde Katsu Katsu Kobayashi hai capito tutto grazie Katsu sei molto gentile lo sto prendendo in giro è amissare di sì questo è Rioma sembra che siamo arrivati al laboratorio il satome sembra che siamo arrivati al laboratorio il satome in tempo non riesco a mandirlo stasera posso metterti in contatto con il laboratorio il satome se il satome il dottor satome colonnello bright sta diventando un gran problema comunque perché il nemico ha deciso di dichiarare apertamente che attaccherà il laboratorio il satome e questo è Katsuya va secondo me il comandante degli alieni di BAM Rikider è un tipo di persona a cui non piace il gioco sporco probabilmente vuol combattere in modo onorevole Shinobu questo è uno dei dei quattro del Dankoga quello dell'Aquila quello sempre arrogante troppo ottimista questo saresti te Daniele proprio il carattere tuo troppo ottimista non puoi dire questo in guerra vivere o morire non esiste sporco o pulito questa è Sara sempre una di questi del Dankoga capisco che cosa Shinobu voglia dire ma il tuo modo di parlare non è romantico eh che sta dicendo vuoi litigare? sempre a litigare questi due ah no aspetta è saltata una riga ancora lui risponde a lei eh non pensavo che tu parlassi di romanticismo lui a lei e lei risponde eh che sta dicendo vuoi litigare? Azzurri questo è è il dottore del del Dankoga diciamo che è lo scienziato che ha creato il robot proprio il dottore del Dankoga si gli fa le medicine no? queste cose quando è malato gli danno io ho la pesticchina il termometro in bocca no il Dankoga non mi mette in bocca il termometro ah di quelli rettali fate la finita ragazzi non sapete proprio come fare progressi? dottor Azuki quando è arrivato al laboratorio Satome sono venuto qui ad aiutare il dottor Satome nelle sue ricerche è successo dopo la vostra degradazione credete dopo che no che non li fa più unire per fare dei robot il dottor Azuki mi ha aiutato nel suo progetto e nel progetto oh stasera già faccio più il dottor Azuki mi ha aiutato ed il progetto del Getter G sarà terminato prima del previsto ottimo ottimo e però non è di Oman lo dice è Bright ah non si sa Bright fatti l'affari tua non sai che ancora deve arrivare lo Shingheta e ancora non sa comandare niente lui sa dire se lo buono ottimo ma da ogni modo grazie al nemico che si è preso il disturbo di scegliere il tempo possiamo prepararci quella battaglia ovviamente se non è una trappola sì non posso negare la possibilità per favore siate prudenti sì sarò prudente finché non arriverete Masato questo è un altro del Dankoga ehi il dottore bravo quello che ti piace è uno degli animali del leone o non ricordo cosa sia ehi il dottore Azuki è lì può controllare i nostri robot visto che le condizioni non sono grandiose ultimamente sì giusto è meglio che il dottore viene a darci un'occhiata cioè non l'abbiamo mai usati non è che c'hanno robot difettosi ogni volta che abbiamo usati noi non li usiamo perché sappiamo che erano difettosi ora lui li rifaccia ma ogni volta che li abbiamo usati li distruggevano quindi sarà per quelle che perché sono difettosi ora ve li rifare al dottor Sautometro sì vi potete no no quell'altro dottore comunque se tutti sono d'accordo no appunto quell'altro è un incapace ah ha ragione lui dice se tutti sono d'accordo è meglio che se ci anticipiamo e noi 4 andiamo prima Sara aspetta Shinobus è sempre così impaziente e io dice qua beh alla fine andiamo capitano Bright mi scusi ma noi partiamo subito e ci anticipiamo e Bright dice fate attenzione tutti non lo caga nessuno a noi tutti vanno a come gli pare però lo chiamano capitano aspetta poi da notarsi che i loro mezzi non volano a parte 1 quindi vanno pianissimo quindi in teoria stando sull'astronavia arrivano prima però lasciamo perdere lasciamo perdere la cosa ah siamo già pronti per giocare cioè non mi dico che c'è il Dunkirk e non c'è il Ghett dipende il centro c'è dove non ti dico niente Masato dottore come sono le condizioni delle macchine ah non mi sarei aspettato che voi avresti usato il robot così a lungo c'è stato molto stress nel sistema distinto selvaggio quello che li fa trasformare in bestie tra tutte le macchine la tua è la peggiore hai usato troppo il sistema aggressivo così esatto quello che moriva subito lei farà sembra Shinobu che è quell'altro che diciamo che assomiglia a Daniele come carattere Kenjo che è il cognome di lei di questa sare la tua macchina è la peggiore dopo quella di Fujiyara Fujiyara che è questo Masato dannazione ritorno di fiamma Dottor Satome c'è un segnale nel radar è un nemico vediamo è un nemico che me ne dite secondo me sì mi sembra Barone Asciura papapapa sono scioccato dalla stupidità onesta di Rikiter grazie a questo posso effettuare un attacca sorpresa bene attaccate e distruggete il laboratorio Satome adesso Shinobu merda quelli di DC sono sempre come sempre ci hanno ingannato andiamo Sara Masato Ryo anche se siamo solo in quattro li fermeremo adesso dobbiamo usare il loro per forza hai capito cosa? no ci abbiamo il Dalkugan si cosa? c'è qualcuno già lì? Shinobu finché saremo noi del team Animal Machine finché noi del team Animal Machine saremo qui ve lo impediremo andiamo ce la faremo allora siccome io devo farmi riposare la mia gola adesso vi dividete voi due questi qua io vi faccio vedere cosa ce l'hanno questo qui aspetta questo e questo qua quell'aquila non si trasforma ancora in animale perché ci vuole morale alto si può trasformare un uomo e ci ha di poteri fervore ritorna pieno di vita e aumenta di 15 il morale il 15 il morale servirà poi per trasformarsi e fare attacchi speciali questo è il tuo favorito massimo e niente lui si cura di un terzo di vita c'ha fervore e anche lui aumenta e anche lui aumenta il morale di 15 tutti ci hanno quello che aumenta il morale di 15 ok questa è la ragazza Sara fervore fervore torna pieno e alza il morale di 15 e poi c'è il mammut qui e un terzo di vita fervore e 15 di morale volete vedere le armi o no si l'unica l'unico che vi dico che spara lontano è il mammut che spara sette caselle quindi se volete piazzarvi tenete conto di questa qui però c'è una mira scabrosa ora la cosa buona qui è che ci sono queste unità di terra e l'astronave che di solito hanno un'agilità proprio penosa quindi li prendete bene con qualsiasi cosa in teoria e poi c'è questi volanti che sono un po' più difficili da colpire questa è la mappa molto piccola e se state come sempre sul laboratorio qui vi da 20% di vita non 10% come palazzi oltre a essere 30% in più di schivata e di oso e nemici c'hanno meno meno cosa sarebbe aspettarli come ve le dividete intanto io prendo il ragazzo che odio e la ragazza a destra ok quindi ti prendi piedi massimo poche parole questo è piedi del robot l'aquila e la testa quando si unisce e il mammut e il corpo è solo il mammut e tutto il resto è niente ok chi vuol fare cosa aspetta danni una cosa chiaramente l'aquila quando ti trasformi ti può trasformare in uomo e quindi il robot e quindi c'è il vantaggio di stare nella base adesso non si possono congiungere no in alto non basta si ok lì poi massi allora prova a vedere dove riesce ad attaccare la ragazza nessuno attacca nessuno siete troppo lontani ma anche questo lo vede il raggio ok allora lei c'ha 8 colpi di questo fino a 6 6 di colpi fino a 5 se ti trasformi in uomo il robot diciamo in piedi no ancora no c'hai un attacco colpo a corpo in più poi gli altri sono uguali c'hai due colpi in più di questo allora fai una cosa la ragazza la la metti come robot o come sotto Daniele a testa ok vuoi avere l'agilità o non ti interessa come c'hai 42 di schivata e 260 di armatura come mezzo ah ok sei meno agile però c'hai più armatura ok questo è scusami non avevo capito dicevo quando sei mezzo quando c'hai mezzo sei la corazza più alta quindi se ti difendi o controattacchi è meglio mentre se vuoi schivare colpi diciamo come forma umana è più possibilità di schivare però l'armatura è più bassa rimetti io come mezzo ok lo metti sul io guarda arrivo fino a una di queste due perfetto era proprio mi vai questi ragazzo vediamo ah allora che lui spara fino a sette caselle con questo penso come umano pure come umano vabbè come robot sì con l'attacco in più vabbè lui lo metti prova a metterlo nello spazietto libero cioè sotto Daniele di due qua ecco gli proviamo ma non c'è nessun vantaggio vabbè c'hai vantaggio del boss ma non ti curi dico magari c'è un tesoro ah ok ci vuoi andare come aspetta vediamo se ci arrivi prima non ci arrivi come robot come mezzo non ci arrivi in nessuna forma ci devi andare il turno dopo è un'ottima cosa ah perché c'hai foresta e cose ti rallentano ok mettilo lì va bene che forma va bene come mezzo ok Dani vuoi prendere i tesori vai davanti davanti ma cosa poteri o niente infatti c'hai che poteri c'ha c'ha felvore sta roba che non ce l'ha c'hai felvore aumenta il morale secondo me c'era quanta di velocità guarda un attimo 42 c'è l'armatura che basta la velocità non male 2df e c'hai c'hai quest'attacco che sgancia le bombe perché fa solo attacchi in acqua in terra quindi sganci le bombe ce ne hai 2 allora no aspetta mi sta che i cioccolati troppo vicini fa una cosa fammi vedere fa vedere la mappa dica quanti il movimento ok vai tutto a destra va alla massima vai poi passi a tutti ok almeno si dividono forse riportate che loro uno di loro non vada alla base perché sono sicura massimo vuoi fare qualcosa nel frattempo che daniele è busy allora aspetta te da qua non spari e da qua nemmeno e allora risposto in su perché così sulla base non saprei aspetta aspetta come pensare una ah va pensa vuoi che ti faccio vedere da lontano vediamo un po' questi erano qua quindi il prossimo turno ce l'hai addosso si ci arrivano aspetta comunque si può cliccare e vedere si ma quelli sono scampette ma ma il senso vi arrivano addosso di sicuro intanto siamo sulla base questi non ah si questo non ci arriva e così tutti e due si questo non ci arriva solo il minufo arriva ma solo lui e si ferma sulla base oppure su a lati di questi allora fai così la ragazza però se qualcuno si mette qui loro ci arriva questo qua ci arriva al secondo io metterei la ragazza lì sopra cioè sul bosco sopra la base qua eh si allora poi ci arrivano tutti ah no questo no ci arrivano in due ok la ragazza sempre il car armato si 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 ok te Dani aspetta te forse ci puoi sparare te puoi sparare con questo si vai spara a chi 54 chiaramente non ti spara indietro 99 stai a vedere o almeno vi si alza il morale perché così vi potete trasformare in animali passate di buono via qui c'è quello volante o questo qui massimi provo a vedere dove arriva se arriva da nessuna parte niente lascialo lì che ora passi un po' più veloce eh mi riuco è abbastanza veloce se si ma va ma ci puoi arrivare a te se vuoi sotto o di là magari sotto dicono ci puoi provare sì ma non gli posso mi ha sparato no ci spari c'è tre tipo di attacchi ah spari anche da qua volendo c'è 6 vedete su chi arrivo da lì comunque guarda aspetta io giusto per il tanto posso annullare sì gli fa questo attacco qua da 800 più 21 però non fa tanto male sì ma un mini ufo invece c'ho quello da 1200 più 19 ah qui c'è un altro mini ufo per la cronaca ma poi questi sono quelli vedesti due sui cecchini quelli sparano tipo a 7 8 caselle 1 2 3 4 5 6 7 l'unica cosa guarda se sparano 8 non ti colpiscono se ti metti qua però poi c'è sempre double 6 cavale ascolta come tu ho detto vai sotto di tre caselle 1 2 3 che vai fermati lì vai lo fa andare nell'acqua a massimo con te passo giusto si ok vai chi era questo qui vediamo vediamo che mi hai lui ti suggerisce quella più grande si dice che non è abbastanza per questa piccola per farlo fuori 6 colpi questo vai da 8 perché solo 6 colpi perché e quella sopra quanta vediamo un po' le caratteristiche meno 10 8 colpi no va bene questa mi piace il critico no no ho sbagliato aspettate un attimo perché c'è un pezzo in più di traduzione perché dopo parla no io l'ho fatto un pezzettino ok il critico è sì più 10 per fare il critico questo meno 10 più possibilità lascia lascia quella da 6 colpi si si l'ha lasciata quella lì come hai detto prima 38 38 adesso si arrabbia la ragazza no e l'ha mancata quanto era la percentuale era 84 84 ok shinobu dice vedi lui gli dice sei una schiappa eh sarà loro stanno sempre a litigare ora gli dice sarà tutto a posto resisti ai 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 come hai potuto farmi questo cioè gli ha fatto quanto gli ha fatto 38 38 lei sta già a piangere merda dottor azuki ma dammi il permesso di unirci in tankoga non possiamo resistere a lungo in questo modo non posso prendere questa decisione da solo il che prende è stato qualcuno gli ha rivocato ok vi darò il permesso compiuto e sbloccato che c'è sta sta grande battaglia che hanno subito esatto e va grazie esatto un mini ufo non era uno grazie tutti pronti per l'unione venite qui cioè ora fanno due chilometri capito pure in acqua vanno veloci tx e sequenza di acn d'uncoga troppo lunga per dire unione vi sconfiggerò è tutta scena hanno voluto fare la finta per la bella scusa di unirci capito oh mi sono fatta male ce l'ho già preparato il piano è uguale esentico ok adesso ve lo gestite insieme perché ce ne è uno solo esatto esatto è il potere di 4 aspetta non ti dimentica che ha le ali non vola eh forza pensa non lo so quante tonnellate vabbè eh ok asciura ah che cosa vi siete uniti ah non abbiate paura questo è solo un blef che era un blef dovresti salvare ah bravo la salva la seconda allora ok tutto sballato adesso ok i poteri sono quelli di prima però se volete ragazzi vi potete sganciare no 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 già siamo delle schiappe sganciate vi faccio vedere prima dove arriva a piedi tanto non voli quindi non volare io sarei ben da giù e usci dall'acqua perché da colgare in acqua mi sa che non è tanto forte comunque guarda qui hai un laser che potete sparare da quelli fuori dall'acqua quindi quelli che volano questi sono da corpo a corpo questo sono sei colpi questo qui è eh torna su torna su giù è in quello da 1200 è in 20 questo qui è un colpo normale ma B è acqua sì B è acqua e questa è la spada che però dovete far morale a 120 ma vi ricordo che avete quattro personaggi che ognuno dà 15 punti di morale però chiaramente poi non vi rimane niente per altri poteri e questa è un'arma che è un cannone grosso che ci vuole 140 di morale spara gittata minima 2 fino a 8 caselle e leva a 3040 e usa 80 di energia su 200 quindi se volete sparare fino a 6 caselle se volete sparare se no andate in corpo a corpo usciamo un'acqua e ti non si può neanche usare la spada spera qui poi sarebbero sei colpi tutti tutti sprecati no allora sono fuori dalla le 20 a chi si può sparare guarda un po' adesso al mini ufo e a tutti anzi perché quello non è un laser allora spara io sparirei a cosa doblast si no al doblast ah al garata k7 ah al garata k7 te ma se vuoi sparare io vi faccio vedere guarda se volete potresti andare qui sulla terra allora sull'acqua si muovono ancora più piano e vi viene addosso solo il mini ufo si spara dentro l'acqua siamo svantaggiati ah ma questo va bene dentro l'acqua mi pare questo ah b giusto si c'ha b secondo me anche loro si sono svantaggiati a sparare nell'acqua beh può darsi magari se si rimane in acqua per ore o si esce dopo quando si avvicinano poi arriveranno anche i nostri allora si il mini ufo quando spara se si muove e spara c'è un attacco che è il laser quindi sott'acqua non funziona però se non vi muovete fa la scarica elettrica che quella vi colpisce anche sott'acqua quindi in teoria ah sì ma comunque in teoria questo non vi fa niente se continuate a muovervi il Douglas mi sembra che faccia un attacco con il laser però non mi ricordo se c'è la lettera B o no di sicuro fa un attacco questi qui non sono attacchi laser questo spara i missili e questo spara le fa agg quindi a meno che l'arma facci proprio di suo meno danno in acqua mi sparano comunque che si va si scappa o si attacca io cacchio andrei sotto sulla terra puoi andare giù? sì va là andiamo giù vai ok va giù può andare che è sulla questa è terra e questa è terra pure eh vai lì su dove sei ora ok 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 poi se arrivano quell'altri comunque adesso vi spara però volete farlo fuori vi suggerisce l'arma con la più grande per farlo fuori vai facciamolo fuori se si becca al 74 è anche quello lì è un gran bel dire 38 6 colpi ma ne spara 4 in una volta sola non è riuscito a farlo fuori cioè il grande grosso non ci possiamo aspettare troppo cioè è solo corazzato basta no meno male non attaccano la base no meno male fatto no ma allora hanno lanciato la sfida per no allora hanno lanciato la sfida per fare fuori noi capito se non siamo codardi bisogna andarli a combattere che è qui potete fare questi attacchi qui anche questo lo potete fare in aria ah non è una spada hanno un laser quello che è questo qua ma è quello da 880 dovrebbe passare eh fate almeno ci avete un po' più mire ma forse eh ne vatte 5 stiamo vedi forse vi basta anche quello da più 12 ma non massi ti va bene questo massi sì sì sono d'accordo ok questo è un laserino esatto è già che ci fa ci fa una bella sudata e sono in 4 per falla livello 11 a fa fuori un miniuvo ha fatto due livelli cioè proprio se il boss potesse volare farebbe meglio vabbè quanto arrivano i robot seri eh chissà ancora nulla ancora non è il nostro turno quindi poi si è messi proprio nell'angolino non si attende anche sulla base e ora ci spostiamo tutti a sinistra chi è cosa quello che cerca i tesori zambone ah tu l'ha già scaricato il tuo massimo che è sciopo ah stai scendo boss perché questi si sono a piedi li posso finalmente combattere e ce ne è abbastanza zada gundam zada gundam vai vince facile vai c'è ancora 4 ah ma zingazeta ragione scusa zada gundam ma zada gundam è il livello 13 ah vabbè lo prendo la prossima volta ah vabbè puoi pigliare ma zingazeta no vabbè c'è di zada gundam e poi si fa qualcuno scacione di qua per bilancia vai di là c'è gp01 te ma aspetta gp01 che ha 7 aspetta ma dividiamoci un po' te danni chi usi il gheta poi il z gundam si e e basta e gp01 vai e gp01 te ma te massi c'hai il tuo poi c'è il reggizia del canarino 2 poi c'è lo lo zambote lo usi c'è lo zambote lo zambote il d'uncoga lo potete usarlo chi lo usa di voi il d'uncoga non lo vuole nessuno te ma si vuoi usare? dai ci siamo e va bene ci siamo no se no vuoi usare un altro c'è un altro di tre da scaricare ah è quello di Fabio che ti puoi scaricare quello di far passare a Fabio ma ero dimenticato un canno lo uso io dai ma è già a livello 12 ah hai ragione parcheggiamolo per un'ora si chi c'è? chi c'è abbiamo primo chi è? questo è Legain questo è Dymos questo è Legain rosso Gundam 2 l'astronavina che ha fatto il danno l'altra volta e queste cose ti va bene Massi? quello che è Daniele non lo faccio mai è il figliolo del capitano dell'astronave qui non ce l'ho le traduzioni fino a questo punto quindi le sa ah meno male a dire vero ce l'avevo la traduzione l'avevo fatta perché io stavo sempre facevo pausa skip skip il combattimento ah Ryoma dice state tutti bene? e Shinobo dice quello del Dan Koga siete arrivati tardi stavamo quasi per perdere e per forza siete delle schiave non c'è nessuno e Koji gli risponde ah è il barone Asura come al solito gioca sporco questa era la traduzione ok e Max sarebbe bene far subito un bel cerca tesori almeno oh sì 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 si prova dove sei ecco qua ah lo zampo puoi anche dividerlo se vuoi no perché tutte le volte fai queste proposte io no se ce la prende tesori lontani ma guarda dove c'è il tesoro chi è che ci va lì in mezzo guarda lì secondo me col me da associarli mi perito sei pure in una situazione sicura guardo e non e non attacchi neanche cioè devi stare a subire no guardate guardate mi ha scaricato boss in mezzo al boss io non ci posso camminare porca miseria vabbè muovo boss prima se no non ci ascomare il bosco se mi tappate la strada ok io inizierei ad attaccare il triceroto ho tempo a sparare con questo massimo sì sì col mio quale vuoi fai i doli a un'unica uno da domina è tossa eh qualcuno le ha spesi soldi eh sì questi e quelli che prende questi tre ah questo questo dicevi giusto? quale sembra il più pericoloso ma questo è uno dei primi che si affronta questo questo penso sia il secondo eh vabbè ma però la va du mila mi fa bene allora fai così attacca sempre il triceroto no e aspetta io ti riferisco e voglio dire secondo me è ancora più corazzato è quello sopra sembra una fiammella no è stato è tipo un busto un bidone nella spazzatura con un corno un toro sei 100% con tutti pure il Dallas tutti e tre al 100% così adesso vedi cos'è e capisci che non è una fiammella questo è una specie di rinoceronte si ma si non è anche fatto ma io ho detto vabbè gli do il colpo finale con boss dopo si proprio neanche ah guardate ti andrò a fare questi che sono cecchini e nella montagna che non ci si arriva mai si si poi infatti me ne ho con fuori io dai ok mi metto lì chi è il prossimo una bella fraccettina ma se no ci vado io con il ghetto si ma ce ne hanno un bravo guarda anche ce ne ha ancora da far fuori questi qui non penso che li fa fuori il daimos e da solo si dico guarda lo z gundam fin dove muove a piedi arrivi a ri a prendere il tesoro ma no guarda arrivo lì a chi attacca con la mitragliatrice no quello lì da 1040 tarda sono tutte spade quelli vai cara da k7 addio carada ah vuoi usare poteri no guarda prima quanto c'ha 18 ma che poteri vai ok boia è fatta abbastanza male con una spadata se ti faceva fuori cosa hai già fatto niente la manca 2000 c'erano qua vuoi fare un'altra ricerca tesori eh è vicino ma ah ricordiamoci qui ricordiamolo lì allora guarda qui dove c'è sto scalino 3 lì ok ok allora 1 2 3 ok chi è il prossimo guarda un po' il getter dove arriva con questo si ma con questo getter 1 si ah potessi che fai getter 1 sicuramente ce la dovrebbe bene risate di fare uguale come l'altra volta il boss è di ah arriva ai nemici e non generasci niente la vista e adesso l'abbiamo visto tutti con orecchie da topo esatto 5.000 3 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 ah ma no che l'abbiamo già fatto no ma l'ha preso 5.000 ah bravo cioè hai preso 5.000 per puro caso pensavo che era questo qui ti ha dato 5 hai fatto no 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 esatto sai perché te hai fatto fuori quello lì e dopo che l'hai fatto fuori ti ha dato oh hai scoperto 5.000 dollari ah si non l'avevo visto eh per quello che mi sono confuso ci siamo rischio quindi c'è da un tesoro a caso sì no l'abbiamo trovato per culo ottimo via ah io posso sparare con questa qui guarda massi vedi quanto spazio tutta questa tutti quelli che sono qua vengono colpiti inclusi nostri praticamente puoi distruggere due bunda ma più lo zambo quindi scegli la direzione sotto e due fa quella direzione lì non fa tutta l'area ok quella era per fatti vedere ok qui ci abbiamo qui ci abbiamo elegain nuovete giusto mi domanda se il boss riuscirà a fare un attacco vai attacca la massima potenza basta che gridi per boss e gli passa punti a boss poi boss lo facciamo per te questa è l'arma migliore vedo prima quando c'era solo il diemos era difficile adesso il diemos il d'uncoga adesso che c'è tutta la squadra è diventato super facile no gli ha levato niente è perché l'ho lasciato per boss no non lo stai lasciando per boss se ci arriva boss iniziamo ad attaccare con il d'uncoga che c'è degli ufo lì accanto vai quale vuoi mettiamo la seconda allora con questo qui puoi attaccare quello in acqua volendo facciamo quello sopra che guadagna punti esperienze ti faccio vedere questo ti colpisce a 79 questo non ci arriva questo qua non ti prende questo qua te lo colpisce a 78 lui ti prende di sicuro ma poi ti leverà niente e che livello è quel lupo sopra 14 questo non si sa perché finché non ti attaccano ma lontano un secondo vai se vuoi ti puoi spostare tipo qua e fare questo attacco da 880 che però non lo farà fuori però hai 99% di colpire e ti allontani dal gruppo diciamo che sta arrivando un po' allora se Daniele è d'accordo io mentre si sposta Daniele te l'ha lasciata a te ah me l'ha lasciata quindi mia responsabilità bravo allora forse qui c'è pure un tesoro di queste cose allora comunque se mai ci si va dopo inizia a metterlo a sinistra di questo ufo dai dove sono adesso si ok quindi c'è un attacco solo vai fai quell'attacco vediamo un po' quindi lui ti colpisce per forza si a meno che te lo fai un critico lo fa fuori fai 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 fervore si vediamo se hai quel potente allora è un po' sprecato eh eh si che è questo mi sono divertito a giocare vediamo considera che questo è c'è tipo 14.000 roba del genere si questo io non ce lo spregherei fai così guarda lo iniziere a spostare poi farlo avvicinare alla base mettilo mettilo lì sempre a sinistra e farlo attaccare senza poter così ok non ci dovrebbe essere problemi comunque poi se ti fermi la base un turno recuperi il 20% della tua vita vuol dire che te prendi 860 quindi questo ti leva 30 o non ti fa nulla finché non ti attaccano quegli altri sei a posto capito questi piccoletti non sono un problema ora ti ha fatto l'attacco più grosso perché non si è mosso però vabbè vediamo ah ah niente ok vediamo altri c'è di armature 410 bella piuttosto ok ok allora di qua e chi è rimasto vedi col metas se riesci a no no mi è certata la forza il video si si non vedo niente chiudi skype e rilanci ah no aspetta sta arrivando qui si è arrivato qui senza muoverti arrivi qua a questo qui che è già danneggiata e attaccando no dico sparando arrivi fino a questo ah beh però questo qua ci sono già i i due di daniele che se ti vuoi muovere questo è dove arrivi cioè parlando poi arriva a questo qui ma non non attacchi quando ti muovi capito fai una cosa spostano verso il basso a destra verso aspetta dove c'è daniele si abbiamo dato anche quello che muovesse più veloce mi pare due caselle in più mettilo questa casella a sinistra ok finici qua si cosa mi rimane a controllare questa astronave gundam 2 gp01 usite io ho il gp01 ok vuoi muovere quando dove arriva vai mettilo sopra frangarata k7 da brasse m2 qua si e attacca da brasse m2 mi sembra già ferito si qua spada vai non gli farai niente non gli farai niente non vuoi usare il potere del 30% niente schivata c'è da ripagare il coso non mi si è bloccato non vede è bene che tu non veda si 654 allevato mi sembra non ti verrà far vedere che la morte imminente c'è che controlla il damos nessuno di voi controllo io questo qua cosa c'è niente devo fargli alza questo è quello di Emanuele giusto devo fargli pure alza il morale per fargli attacchi fai la lancia 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 lo mando giù a supporto del coso perché la vedo dura qua per il damos per il damos per il damos un damos aspetta un po' ma questo quanto arriva che se no non ci vorrei quindi faccio 1 2 3 aspetta si però guarda la punta 1 2 3 4 5 6 vabbè si sposterà 4 quindi basta ma metto in posizione 1 2 3 4 che anche se non si muovono dovrei poter disparare dopo dimmelo dimmelo vediamo dove si può muovere allora lo mettiamo sotto sotto il protagonista 2 2 ok finito passiamo finalmente vediamo cosa succede ah è arrivato è arrivato pure lui che sta succedendo barone asciura puoi spiegarmi ah la tua strategia è troppo ingenua ti prendi cura di avvertire il nemico del tuo attacco sei stato inflitto dallo stupido spirito dei samurai che cosa allora combatti da solo noi non ci abbassiamo ad aiutarti con i tuoi giochi sporchi e se n'è andata merda ricchi te l'ha lasciato lì meno punti da fare vieni attaccato il Dan Koga viene attaccato dal mini ufo di prima che ti ha fatto la scossa ti rifarà la scossa ma che attacchi ha scusa Dan Koga questo da 6 quello da sotto ti basta niente ti basta niente perché c'ha pochissimo però però devi colpirlo così se lo col primo 686 allora fai il secondo fai il secondo eh sì 99 ok sarà un laser no è il solito scossa 106 è il doppio prima ti ha fatto 116 adesso ti ha fatto un critico deve chiamare 118 eh l'ambulanza passato di livello via 12 12 oh 12 incredibile uno è venuto ad attaccare boss grande boss senza paura così posso fare due attacchi e lo colpisco al 100% no perché uno ha potenziato abbastanza potenziato solo non con una volta cioè lui ci aveva il 94% di colpire l'ha schivato boss non sottavolotare il grande boss è solo pure passata di livello aspetta un po' ah no sempre i nemici gp01 che prima guarda quanto ti manca è quello che ti ha levato lui è schiva vada aspetta era il double sm2 che ti è attaccato si è schiva questo fa ancora più male va vai per un attimo è sudato freddo guarda Massimo questo è tuo questo attacca subito ti basta l'attacco quello da poco per farlo fuori sei sicuro? automaticamente lo scegli di solito quello che basta di solito fai una cosa scegli quello subito sotto però quasi siamo più sicuri ah aspetta aspetta ah sì è male addatto scusa perfetto è apparato da boss guarda come si fa ah davvero allora lo posso fare pure io se ce la fa boss visto è riuscita a schivare e colpire dopo che boss si l'ha fatto vedere questo ogni turno passa di livello che non l'abbiamo mai fatto non l'abbiamo mai fatto passato di livello Massimo questo è il reggizzata che l'ha attaccato canarino 2 prova a vedere schivata 30 per cento via ci vai acide comunque se viene distrutto c'è sempre il robot comunque dovrà scordare vero e fai una cosa attacca non puoi non ci arrivi ah non c'è lui è cecchino se lo schiva lui è nemico dice chi e c'è il cecchino ce n'è quattro di loro e bisogna avvicinare fai schivata fai schivata che è 30 allora va da sott'acqua ti spara che cecchino è cecchino sott'acqua schivata schivata oh ghetta 90 per cento schivata 45 hai visto la metà va sempre a meno che sia il numero quello di a muro a muro quanto va nevato? 142 oh c'era ariano con gp01 sì ma questo non lo beccherà mai vai schivata questo se lo becca lo fa fuori eh per dio sì è quello che c'è il tridente rompe i coglioni sto qui ah non l'attacco col tridente però non si vede niente non si vede niente a non scuderare no l'ha preso al 25% meno male che ci hai messo lo scudo meno male che ha deciso di tirare a fare lo scudo che se no se no era andato ah adesso faccio io prima levatevi di mezzo get a bim aspetta c'è i poteri lui ma prende anche eh quello sotto eh no c'è più 5 identifica il nemico e cura per ora quello sotto non lo prende perché largo tre caselle sole stavi dei massi eh get a bim si ma non levi niente effettivamente eh beh no questi due cecchini gli avevo ma non è mai stata potenza non è mai stata potenziata questa arma eh sì infatti la potenzione 2000 questa è l'arma da potenziare ma c'è l'unica guidarla eh certo sì sempre lui eh ma adesso con quest'arma qui spara a distanza cioè arrivava 8 caselle con questi arrivò a 9 ma non hanno attaccato i nemici no quando fai l'arma di mappa non attacca no ma ricorda di massimo che anche gli nemici a un certo punto le fanno quindi bisogna facci attenzione ok o boss qui non ha poss... ah grandi boss anche se sono nella foresta ce la puoi fare eh ma questi sono duri eh fammi andare a foresta anche a me il galletto lì a destra il galletto va l'escluso ma che po' la scusa no un po' se è 96 adesso punto quanto c'ho di morale? 109 di morale 109 ha fatto fuori 10 nemici eh si no ma anche quando quando qualcuno fa fuori un nemico tutti guadagnano un punto di morale se lo fai fuori te mi sembra te ne da 5 io farei che boss gli do ah a parte che no c'è il potere che attacca tutti sulla mappa lo volete vedere? vai fai quello no non prendo nessun punto però perché? eh non gli da punto di speranza con questo qui però giusto per farvelo vedere dai vai che la fiammella si incazza di brutto con tutti tutti quelli che ci sono attacca deva da 10 a 1000 a caso capito? però è un attacco che non può potenziare l'arma quindi quando diventano più grossi gli faranno poco e nulla che peccato che non gli da esperienza eh però vabbè comunque ora puoi sempre muovere attaccato sì però vedi mi manca due punti non posso fare aumentare il morale per fare l'attacco più grosso quindi vabbè faccio l'attacco normale 96 vediamo se gli gira bene 168 c'è l'ho corazzato al massimo super vostro può essere diventato un super robot davvero che è che andiamo qua in basso così prima che c'è dimenticata aspetta ragazzi non ci dimentichiamo ci apprende il tesoro che è qua ci potresti andare anche con il gp a meno che vuoi scappare in dentro perché sei sott'acqua lo posso curare io chi non può solo con i poteri non è no con il robot vabbè ma lo puoi mandare alla base sicura la base per ora non è se ci arriva alla base sì ci arriva giusto giusto non è a critico anche poterici agiti flash e raddoppia l'armatura per un turno sì allora fai anche play è giusto in caso ok chi ci vuoi andare prima di mandare il metas fai muovere lo zambot a destra no lo zambot non posso muovere se no non posso cercare tesori se no poi non si può far cercare tesori capito ah è vero è vero e il il protagonista dove si muove vediamo un po' anche col più 5 forse non ci arrivi in alto 1 2 penso che tu ti fermi proprio una casella prima anche se fai più 5 no ma si può mandare lo zambot ma prende il tesoro ci arriva sì quella sì vai in acqua a volando aumenta aumenta la schivata a volare la velocità in astronauta vado a dire vado al potere te c'hai pietà 30% di schivata in più e 30% di mira e fervore adesso hai si aumenta la schivata 43 di velocità e 250 di armatura no 38 e 220 c'hai peggio di in tutto ma solo più veloce allora fai rimani il robot guarda se ci arriva il robot si ci arrivi di sicuro no giusto giusto invece vai mandaci vai qua giusto era si no qui qui puoi fare no qua no era qua vuoi fargli là il 30% di schivata come potere o no 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 ok se abbiamo trovato qualcosa e siamo 3 tesori massi te se vuoi puoi sparare da qua ah puoi sparare anche l'astronave però ti sparerà indietro 34 o all'uccello qui 7 a meno che qualcun altro vuol fa qualcosa allora lo vuoi cercare subito giusto cerchiamolo subito ci leviamo il pensiero va scimmando il damo subito così ce l'ho lì tu mira lo cerca un'altra volta vai vai ormai che cerca tesori ha arrivato cerca tesori qua che mi è arrivato il coso il tetto ecco ti è preso si no mi sta abbinato cerca tesori ah penso che era nella base guarda un po ok qui o d'ancoga o reggisata ci arrivano dei due sono tutti di massimo quindi decide no d'ancoga con calma no d'ancoga non ci arriva e dicevi massimi con cosa volevi fare facciamo gli facciamo prendere il tesoro col d'ancoga non ci arrivi ci vorrà un altro turno non mi ricordo se era a destra o a sinistra o mi sembra a destra era a sinistra sinistra vediamo se hai sbloccato qualcosa perché te sei passato a diversi livelli colpisci al 100% torni pieno fervore aumenta il morale 15 hai lo stesso potere che c'è a vostro ma non c'è abbastanza punti te ne serve 70 quindi devi passare magari altri 4 livelli qua con questo soliti poteri non hai preso niente nuovo con questo qui stessa roba con questo hai guadagnato ah guadagni un terzo di vita ok cioè un terzo di vita per te occorre uno di un terzo ok questo è qua poi così inizia a spostarlo comunque verso sinistra qui va bene lì sì ok lasciamo agli esperti adesso il lavoro che lui è un novizio chi c'è rimasto che vuol fare qualcosa qui questi vi ricordo che questi qua che ce ne abbiamo 5 pensavo 4 sono i cecchini 1 2 3 4 e 5 che in teoria dovresti andarci con quelli che possono volare perché sennò ci sparano non gli si fa nulla prova a vedere se col mentas e le precintuali sono buone col mentas puoi puoi sparare ma non a quelli in acqua perché te hai due laser qua questo è vicino e se ti muovi non puoi attaccare quindi se vuoi sparare a qualcuno spari a questi tre o ti sposti fai prova a sparare al cecchino questo qua l'unico che ti posso questa è l'arma più grande 100% aspetta un po' aspetta un attimo scusa Massimo vediamo quanto non l'ho ancora vivo quanto c'aveva c'è la 3500 bello tosto mi sa che ti conviene l'arma grande tanto se no non lo fa fuori di sicuro hai flash con poteri o non mi ricordo no mi sembra di no ma si ce l'hai c'è i flash poi c'è aumenta la tua mira del 30% e aumenta la schivata del 30% e cura qualcuno di un terzo per un turno quello ti rimane la schivata e la mira quindi se lo usi ora diciamo e ti attaccano diversi lui andrebbe a 31 per attaccarti te vai a 130 ma tanto è sempre 100 fai così attacca senza poter ok un bel laserone bello questo colpo orco boia bello tosto e spada e si fa male sti cecchini sono tra quelli più tosti dei nemici di loro del barone asciura chi è il prossimo danni danni ci sei se l'ha preso il tesoro scusami no non c'è arrivato no 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 ma con col metas non ci arrivava no col metas perché ha preferito mandaci d'ancore che è abbastanza inutile capito che non ci sta a far niente qua giù prendo questi con calma dicevo c'eri quando ho detto che sti cecchini andrebbero fatti fuori da quelli che volano perché sennò loro ci spara non ci serveva mai ok non c'è nessuno che vuole te c'è il ghettar che vuole ah puoi andarci con il ghettar 2 sottoterra se vuoi puoi andarci con il ghettar 2 sottoterra o il ghettar 3 in acqua qua no puoi vedere una cosa metti il ghettar 2 guarda dove arriva ecco vai davanti a quel cerchino di tutto a destra si destra si aspetta guarda se questo è no questa è erba normale quindi dove ti pare uguale non cambia niente sotto o a sinistra lì 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 questo quello da 1.2 questo ti costa energia e invece ritorna indietro se for ghettar 1 volando ancora peggio ancora peggio non lo so se lo distruggi perché c'ha 3.600 3.4 3.5 ah no scusa quello sei te lui c'ha 2009 e 20 mi pare un po' corazzato questo aspetta guardiamo quanto c'è lui di coraggio 2.70 non è malbace perché volevo comunque dal colpo di grazia al barone asciura con fortuna in modo che si prendesse più soldi vabbè mica usi devi usare potere o ci ci vai con flash oppure aiato c'ha cosa c'ha quello del 30% c'ha preciso ti aumenti un minimo di possibilità però non è che sì ma poi mi riattacca vabbè aspettiamo ci può andare con l gain però non lo farai fuori mai zambot c'è la velocità 6 più 5 no vabbè ma dopo 1 2 3 per dire anche col mio no potremmo potrà col protagonista aspetta un attimo Massimo scusa un secondo no dicevo Dani lo zambot adesso non può fare cerca tesori perché deve aspettare comunque un turno che il Dan Koga arrivi a destinazione quindi si ma se te ah sì ma i poteri no vabbè l'unica è più 5 ma i poteri del tesoro e questo qui sono separati capito lui c'ha due volte il tesoro ma questo del più 5 movimento flash che sia sono slegati quindi lo può usare ah sì sì davvero c'è altri piloti dicevi Massimo con il tuo se i poteri erano messi insieme si poteva usare il potere del protagonista che muovevi più 5 no facerà comunque più 5 lo zambot va bene guarda ce l'ha qua più 5 e quindi volando te fai 5 caselle in più ci arrivi bene perché fai 1 2 3 ti basta però non lo fai fuori perché mi sa che non c'è morale alto per far quell'attacco finale se ci vuole ancora 15 punti di morale 20 punti ok le mezze lune puoi fare la lancia usa la lancia usa la lancia non è che dobbiamo andare a farli fuori tutti in un turno era per dir ma c'è il cecchino davanti scusate ma il cecchino lì davanti al boss è ferito no si no guardavo il cecchino vado a far fuori intanto quello io ma scusa lascialo al boss no quello lì eh no questo è bello fai fuori questo invece dai scherziamo fatti faccio fuori questo c'è anche il coso il ma strati il massimo dovresti farlo fuori il massimo c'è al 7% deve essere colpita no ma c'è la nave sopra dai io faccio quello ok ora non puoi più fare neanche ragione perché c'è il boss ma il boss lo sposto poi allora inizia fai una cosa fallo fare a Daniele l'attacco che voleva all'uccello dove ti metti lì accanto è a uno il getter beam si no no nel senso se tu li metti sopra a destra o a sinistra no lì lascialo lì perché questi lì sparano fino a 1 1 2 3 4 5 6 7 8 questo ti arriva a sparare aspetta un po' e allora metterlo dietro metti dietro ah no no spara a 7 che spara a 7 non ci arriva vabbè comunque metto dietro allora spara in teoria vai non importa tanto mi fanno un baffo se mi spara vai ma poi attaccheranno altri distruggilo perché sono rognoso questo qua va bene così stai a vedere sei così sicuro 6.000 ti ho detto che erano rognoso questo come cosa me ne ricordo che erano rognosi ti rendi onto hai fatto solo 8 punti di esperienza inizia a vedere col mio dove arriva ah spostandosi e sparando Massimo dai un colpetto tanto ti becca al 7% eh ma si spari o ti muovi non ho capito no dove arriva quello sparo quello grande sì sì eh provo a vedere solo per curiosità l'astronave è sopra 34 e l'uccellino da 6.000 a 7% quello lì questo era visto prima sempre 7% è una cosa potresti farlo fuori se va bene però non lo so un po' dura l'attacco è da 2000 e questo è da 2009 ah dovresti poi aver culo di che ti venga un critico ma almeno lo indebolisci per dopo vai dai facciamo così facciamo finta che è per boss anche se vola buona lasciato per boss proprio adesso 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 in terra lo posto ci arriva ha visto l'abbiamo sottovalutato guarda un po' è legato dove arriva a sparare vuoi vedere se c'è sbloccato qualcosa perché tanto che non si usa ma lei c'è a fortuna lì disse quindi anche le ganci a fortuna a sparare e spari poco perché c'è 6 caselle ah ci arrivi a sparare anche l'astronave però devi sparare dietro ti siuro 53 è tosta muovi sopra quello lì col tridente vai l'attacco è ancora più grande l'attacco con l'arma più tosta poi più o meno sono tutte uguali vai 38 luce 5.600 guarda vai va a vedere io ragazzi sarebbe fare una ritirata strategica sulla base almeno ci curiamo un po' se se ne tocca va curata va pure preso la signora si fa una ritirata sicuramente e ha fatto una carezza e ha fatto poi ha quindi tu Daniele sei specializzato in carezze eh mi sa di sì boi 75% col Gundam 2 no spara il Gundam 2 ti conviene sparare un cecchino questo è di poste sa che mi conviene farlo andare sulla base che sa che questo regge tanto ma mi sa che tutti sulla base non ci sentra però se te lo ti vuoi tenere vicino alla nave bianca se male male che vada non rimetti sulla nave no anche sulla base c'è quattro posti no perché se me la metto qui sul bosco poi almeno posso sparare uno di questi qui ci arriva a far qualcosa e sono bene o male a metà strada tasto una nave e cosa ah potevo usare flash che scemo vabbè c'è solo zampo è rimasto e vediamo un po' chi riesce ad attaccare da qua nessuno questa missione qui è tosta erano con le due inutili beh allora lo potresti mettere ah però poi non attacca e tiro ma secondo te secondo me è tosta perché ci stiamo disperdendo è anche bello ci siamo un po' dispersi effettivamente allora fai una cosa no lasciamolo così intanto siamo in tre o quattro lì in quella zona con anche Daniele a me starebbe pure bene passare in turno allora ti conviene andare a terra così almeno ma che vada c'è la protezione del bosco ok tanto può volare dopo quando ritocca a te ma ogni volta che vola perde energia? sì sì se ti muovi sì ok allora lasciamo nel bosco facciamo che è anche se non ti muovi forno non mi ricordo abbiamo no se non ti muovi non lo perdi 167 lo vediamo dopo se non è ma passo no poi sarà penso che consume 5 quando ti muovi se mi ricordo bene questa è la nave bianca sicuramente tanto non lo scriverò mai e poi c'è anche se gli sparo indietro il colpo lo subisco comunque quindi oh che bello questo vediamo quanto regge boss vai boss non deludermi non ti deluderò si è bloccato proprio mentre boss prende in faccia ancora e ha fatto 1337 boss allora ti sta dicendo queste sono le mine ok scrivi a 37 vai schiva ragazzi bisogna compattarci mi sa ancora ci compattiamo eh sì 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 uniamoci fai muro non puoi attaccare fai muro meno male si è data l'armatura eh sì z da gundame in acqua rispondi al fuoco non ho ancora visto i percentuali ma sicuramente mi metterà mai guardi stai usando l'arma migliore che può usare cioè però questi sono proiettili eh è uguale ok 17 ok vai vai vabbè hai detto non hai visto quanto era la percentuale appunto ti ho detto rispondi anche senza la percentuale sappiamo che non mi beccava mai no ma ho preso il 17% no mi prende mai ma questo gli sponde ora mi ha rotto coglioni è stato bene scendere a prodite che cura in questa persona eh ma c'è il metas è vero anche il metas cura no il personaggio nel metas no il robot boia l'ha preso un altro per boss toglia col bici con il lo puoi far fare con il tomahawk boomerang si infatti userò questo se non ti fa fare lui questo è grada k7 dai vai fai il tomahawk anche lui ti tira il tomahawk boomerang la stessa esattamente lo stesso disegno ok ho reciclato l'immagine dani te c'è livelli troppo alti non stai facendo punto di esperienza per niente e quanti voglio far fuori la nave io con fortuna prova e mi pari di bello si prova a vedere la la schivata a sto punto è 30 va bene dai schiva anche prima mi pare era così si che non schiva io schivo sempre o finché non muori daba schiva troppi cecchini che stanno controllando il terreno ovunque si ma ci fanno un boffo come vedi ora si può muovere si si è da raccattare tesorato era a sinistra se non lo so aspetta 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 un attimo guarda col gp01 arrivi in questo qua perfetto perfetto vai a sinistra che è preso guarda la registrazione chi è che ha suggerito che guarda la registrazione io si è andato a guardare tutta la registrazione per trovare quel punto lì che sarà due secondi ah vai vai aspetta d'accordo qua ricordiamoci non ce n'è più adesso possiamo allora è ora di scherminare questa marmagna ti vuoi cominciare guardate ovviamente mettere insieme cioè compattare diciamo aspetta fammi compattare boss qui prima che qualcuno mi fa fuori quelli che devo far fuori io 96 no bisogna andare via di qua Dani non posso fare perché se ci compattiamo loro ci vengono tutti in gruppo ora gli faccio le ragioni meglio è uno spreco capito non c'ho tanta energia livello 11 che livello è quello lì con il tridente 14 allora per me va bene perché sono al 15 che potete mi sembra ben che c'è il potere di cura guarda un po si ah con di te stesso quanto c'hai? ma vai pieno con quello di mankey eh perché chi è che c'ha fortuna eh Hayato ah Hayato no Rioma Rioma c'ha la cura da un terzo però c'è anche fervore e preciso e colpo sicuro certo allora vai fai 20 20 di cosa oh qui ci può andare col guitar 3 se vuoi non so mia quanto gli levo mi sa che gli levo di più col guitar beam dici 2003 buona un po 2000 cioè più 20 per colpire 30% il critico più 5 per colpire più 20% il critico in teoria se sei dentro al critico fai più male c'è più chance di fare il critico però vedete c'è il 20% tutte e due no 30% qualcosa come okay 30% c'è più 20 per colpire ma il guitar beam ha più 5 per colpire però colpire penso non sia un problema con questi però a 2000 lui c'ha anche l'armatura più di 2000 di vita si poi c'è sempre Massimo qui che potrebbe sopportare eh no gli sparo a distanza quelle gain quelle gain quelle carezzine ok allora guarda se me poi rimani qui in mezzo che c'è in mezzo a tre cecchini più più cosa che sta già bombardato ma aspetta le gain che poteri ha c'è il movimento più 5 pietà fervore colpisce al 100% curi un alleato di un terzo fortuna e il morale di 10 cura se stesso di un terzo intanto che ha ferito ok vai guarda un po' a distanza quanto lo becco ah lui non ti spara vai evo rimane in mezzo a questi qua si si non ti ha mai niente vai sta a vedere grazie se ci hanno il laser mi preoccupo di meno ma non ti stanno attaccando con il laser quello è il problema quindi non puoi usarla che punto sotto vai colpo del monte dai sex vediamo quanto sono le percentuali 100% per tutti e due ce la può fare tanto che non viene dice freme dalla voglia di difendere miciru ah non toccatevi miciru questo è stato un buon colpo uno o meno che hai massimo eh te sei troppo livello alto Dani eh eravamo pari di livello eh ma deve essere di livello più alto di te per darti i punti poi una cosa muovi lo zonbot ha un attacco che va anche dopo dopo il movimento si inizia a muoverlo beh vicino al cecchino ti faccio volare qui così almeno più facile al cecchino questo qui vai andattalo distruggilo vai 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 non c'è ancora morale per fare mezzelune però puoi fare la lancia o quello che sia facciamo la lancia va bene questo va bene la lancia che ti sfido lancia una lancia sono poi guarda aspetta giusto per far vedere per farti vedere tranne quelli che picchi e spara qualcosa sono tutte lancia ok giusto per essere sicuri con il caso così sì senza poteri senza poteri se lo fai fuori non c'è problema lancia da combattimento esplodibile l'ho ammazzato oh c'è lo zeta gunda non ci lo scordiamo scappare come un coniglio farsela nei pantaloni pietà preciso fervore fervore tira un po' la cosa quello lì accanto guarda un po' se c'è armi che attaccano con un bene sott'acqua beh tu questi qui no perché c'è una B quindi c'è due colpi di questo vai oh con la spada quanto c'era rimasto aspetta un po' a 1386 o questo qui che è una spada a piedi o volando questo è a piedi che potrei vediamo quanto sono i percentuali con questi questo è sempre spada 24 li colpisce lui ma vai sotto il cerchino che è in terra su in alto lì guarda un po' i percentuali 22 vai attaccalo vediamo anche se è ferito anche lui è nevico è ferito di poco grazie a boss che fa tutto lavoro per tutti ho attaccato tutti quelli sullo schermo anche se volavano cosa volete Massi questi sono quasi tutti i tuoi allora il protagonista iniziamo ad attaccare la nave a destra vediamo se ci arriva e con che percentuali ma mi sembra che ci arrivi proprio giusto perché vedi guarda perfetto neanche ti spara indietro se vuoi puoi usare gli fervore per fare più male fervore stavo pensando la stessa cosa vediamo si ce n'hai di punti e anche te c'è fortuna oltretutto da ricordarsi lo usiamo in qualche modo a fervore fai si fervore fiammella che mi brucia i capelli da quando non c'è più fabio sono serate tutte tranquille è fatto un bel lavoro con la fiammella un bel colpo un bel colpo ma che cannonata cattordici punti da fare punti miei ci arrivo colo no speravo di arrivarci senza senza che si muochi raggiungi il cecchino perché tanto di livello ok se ce la faccio siamo a meno 15 meno 30 meno 20 basterà 900 basterà le percentuali di mira dipendono dal protagonista giusto? dal questa e queste sono scritte qua dal robot sono sono fisse del robot non le puoi cambiare poi si combinano insieme a quelle del pilota tipo magari il pilota ha più 10 di mira capito diventa meno 5 ah d'accordo quindi più sale il pilota più migliorano questi numeri quando vai a fare i calcoli finali tipo vedi colpisca al 100% comunque perché il robot nemico non è agile io ho una mira abbastanza buona da compensare quelle cose negative tutto tutto un insieme vedete prima ho usato il coso da 210 sono andato a 125 posso far solo un'altra fiammata grossa devo far solo quando c'è una concentrazione alta di nemici ok qui ci sono sempre questi in basso questo è andato qui c'è qua su si è mosso giusto si che è solo questi 4 che è uno di Daniele poi due di Massimo e Gundam 2 che mi sa che no i Gundam non spara nessuno solo Reggi Z può sparare ma no neanche e se è ferita Massimo si 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 mettilo sulla base quale dei quattro e punti qua cacchio quanto si muove bellissimo eh l'ha voluto super potenziati con gli oggetti schizza come un siluro mettila a destra ok qua ok vedi sì Dani devo fare qualcosa con GP01 no aspetta un po' che mi ricordo mica sei sempre ferito puoi attaccare quei due sembrano due scarpette eh sì WSM2 io non lo farei Dani ci sei? dimmi sì sì puoi attaccare WSM2 con GP01 sei ferito e hai i flash mai ma in quanto gli levo no gli levi niente la faremo ma anche che poi dopo c'è in gara da k7 cecchino qui no no lasciare lì diimos cominciamo a farlo muove da qualche parte non si fa niente però li compattiamo o no come ci stiamo organizzando siamo abbastanza compattati avvicina al diimos così ce n'è uno in più un bersaglio più per i nemici vai e lui scusa lei ha flash vai mi uso flash giusto per cose troppo lontano però vediamo cosa succede non mi hazzardo attaccarlo barone asciore adesso due unità ok perché uno è GP ok salva anche se usa il gioco sul gioco si spera che è ok getter 1 o erano chi era z gunnam z gunnam fai schiva cioè si sta allontanando asciura ma prendi quelli che sono per conto su isolati ah si sono scambiati i bersagli via in poche parole schiva ancora proprio la schivata con due chilometri due giorni di anticipo si è messo da parte z gunnam schiva ah 26 allora rispondo se intanto mi beccato mi beccato anche all'11 però l'hai quasi fatto fuori a metà la schivata con due giorni di anticipo ma sta amoreando oh ancora lo curiamo col metà fai difesa schiva uno fa difesa quanto va a 9 se mi becca ragazzi fai difesa schiva sta a vedere tra tutte e due è più di colpiato sospesa boh almeno ha fatto da parafulmi come dice massimo che è quando arrivo con boss non ci arrivo mai z gunnam con chi lo vuoi curare no non c'è niente lui te meta se lo puoi fare oltre in z gunnam solo una volta ancora ok ah interessa aspetta un po' aspetta che guardi un attimo mi ricordassi qual è tre volte questo qui chi ha l'altro cura si allora questa è z gunnam questa ah questa è la cosa l'ilis la fatina di elegane può fare una cura sola ancora di come per curare un altro e poi dan koga c'è un personaggio che può fare due cure questo qui allora oh ok cura gli altri poi chiaro c'è chi c'è la cura personale in altre parti mari poi anche dan koga puoi sparare no ancora non hai sbloccato st'arma grossa però poi fa la spada vediamo un po' non ci arrivi velocissimo dan koga no ok con carne poi sparare con i colpi normali se vuoi aspetta quello te lo posso far vedere siccome ci arriva colπειa ma chissà che vediamo non mi sembra strafortissima questa cosa colmetta se vuoi sperare assicurata fino a 7 caselle guarda io poi ammorbidico il metas si 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 chi ha di livello più basso il metas e 10 appunto perché se dal coca 13 ma sì che vuoi fare seguiamo il consiglio di daniele che almeno prende più punti esperienza perché di livello più basso sperando che dal coca dia una mano abbastanza sì ma il gara da k7 dovrebbe essere fortissimo era nei primi livelli però anche loro c'hanno livelli diversi si sa che lo tiri in terra e lo tiri anche proprio giù no c'è mi leva miller con questi laser in vado vai vai leva miller roti già 2004 o incredibile che se vuoi provare adesso aspetta un po ma c'è il gp ci arriva si ammorbidisco dell'arte no non penso no non c'eriva il gp arriva a questo qui che non ti può sparare oltretutto quindi anche buono massimo qui è solo quest'arma qua più potente che ci può arrivare vai il doblas e il doblas vai gz vai 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 sono punti facili beh ha fatto il critico pure no 60 di basta basta uno attacchi uno scemo attacca ora io ti sparo con gp 0 1 sparo a cosa cosa flash non ecco perché non ti spara indietro no perché non ci arriva ma no forse sarebbe 0 se ti sparo con flash forse non lo sprechi flash vediamo boia dopo l'uolo può far fuori cosi reggis a livello 60 se le 60 si ti mangi diciamo le 60 punti non a livello 60 guarda un po che intorno 1.386 quello sopra 1.769 guarda tiro a 1.386 a te vuoi rimanere sempre qui quest'arma grande o la seconda poi la prima la prima tanto non ce l'ha l'antibim no perché ti costa 40 di energia beh tanto siamo pieni poi distruggilo sai vede adesso rimani senza energia contro il cosa contro asciura niente non si è ancora passato 174 ce ne vuole un po sicuramente perché tutti e due hanno 6 caselle che poteri c'ha elegante? ce l'ho a flash? no c'ha più 5 di movimento c'ha pietà fervore colpice al 100% cura un alleato di un terzo poi fai fervore dai così ci vediamo a più presto fai fervore vai allora o puoi sparare anche a questo forse se lo puoi anche far fuori con fervore con fervore senza fervore no se vuoi provare il cecchino che livello è lega? 9? 9 vai provare il cecchino con fervore si vediamo se rilascia a farlo fuori un attacco o meno che si subisce più che altro guarda Zagunda mi sembra messo sempre intorno a 3 eh Zagunda ma che lo becca mai si l'ha beccato prima Asciura gli ha sganciato le bombe Asciura ma oggi è domenica però passate di livello ma fra poi ripasso ancora perché ho fatto 4,90 a 135 chi è? chi è che gli è rimasto con fortuna? è Zagunda Zagunda ah bravo ma fanno tirare giù a me perché se no io non li faccio mai non ti speriamo non li fai mai mai c'è a 6.009 no ma ora è tirati i due colpi ora sacrificatevi sacrificatevi voi ora poi dovrei dare colpo finale ah c'è il cecchino sotto vabbè quello non è un problema vabbè c'è chi non è ormai non sono più preoccupati perché comunque anche se ci devono un po' di energia non ci ammazzano nessuno vai ci puoi andare con lo Zagunda si può andare con la nave non so mi sa un po' un po' lontano non c'è neanche per spostarsi mi sembra di... al cecchino ci arriva Dimos posso usare questo qui e sparagli un pugno o insomma no un colpettino così ma non fa un granché poi sott'acqua spararà la nave così la nave che colpisce al 100% ce l'hai il flash qualcosa un pezzo c'ha poi non ti arriva nulla anche se ti orpisce c'ha preciso e basta non c'hai 3? non c'hai 3? no no c'è un pilota solo si vabbè vai che poteri quanto mi manca fa 114 aspetta potrei usare cosa per farla eh 2 ancora troppo lungo non ce la farà mai sbloccare il potere grosso vabbè faccio che avvicino qua e gli sparo un colpo al cecchino poi qualcun altro lo finirà semmai 1024 eh ma ora dopo se non lo fa fuori di nessuno vado sott'acqua lo prendo corpo a corpo è più è più semplice la cosa ok vuoi pensare a buttare? certo ah ci arriva anche al cecchino poi avresti se vuoi usare il potere grosso però poi non so se lo fai fuori del tutto con le mezze lune le mezze lune sono un attacco molto speciale allora no per cecchire ti dico per la nave vedi al cecchino 100% benissimo tutti e due puoi se vuoi usare qualche potere magari c'hai fervore così sei sicuro lo fai fuori ma adesso fervore lo userei contro la nave perché ce n'hai ancora devo fare due volte fervore ma te non hai fortuna capito? però è quello lì che se te fai fervore con la nave la fai fuori perché è un problema ma io usando me io con fervore 5000 li rilevo alla nave quindi basta portarla sotto 5000 attacca sempre il cecchino dai così ce lo leviamo di colore ok senza fervore senza fervore vabbè al limite comunque attaccherà quando attacca qualcuno gli si risponde attacco attacco con non si sa cosa lancia tutti con la lancia ce l'ha anche lui la lancia comunque in effetti passato di livello via sai che non ha fatto niente questa non ha neanche sparato un colpo la fa adesso c'è la velocità no c'è identifica adesso non credo che ci arrivi guarda la metto qui poi quando lo asciuna mi attaccherà perché sarà quello più scarso avvicinano il mio alla nave protagonista la nave la nave la vuol spostare sì io voglio spostare la nave non ha la nave nostra a quella quanto vicino sopra il legale a destra ok usi qualche potere o no c'hai flash te? provi sì ce l'hai sì ce l'hai giusto in casa che è qua sì sì vede già chat e qualcosa ma ce l'hai sempre ma ce l'hai sempre 147 ma vale per tutti e tre la solita energia no? penso di sì aspetta vediamo sì sempre per tutti e tre mi sa che dieci minuti e vi devo lasciare ah beh l'abbiamo finita vai ok Dani vuole deve tornare indietro ormai l'abbiamo cambiata la nave bianca non c'è più che tal ha fatto il critico a ragione massimo bisognava bisognava salvare ricaricare almeno è passato di livello se non altre proprio arrabbiato vabbè facciamo fuori questo qui che massimo deve andare gp01 vuoi passare di livello? no a parte è livello 7 gp01 è livello 7 cosa o a che livello è? 8 o 9 8 o 9 no reggz no reggz è a 13 eh no le fai il gp01 e gli fa passare eh no fai mori con gp01 se gli a fa è a massimo pure f no la fa fai abbastanza danno spada laser taglia 2 con un colpo vediamo se passa è passato via e l'abbiamo fatta giusto un tempo per farlo vedere a massimo vabbè il ragazzo cosa dice si dice no ma perché l'hai fatta scappare ma io ma sei un coglione no perché non hai usato fortuna no lui non c'era proprio se lo sapevo usavo fervore e fortuna subito e le tiravo fu eh ma a te se c'hai abbastanza beh fuori non ce l'avevi però per farlo fortuna due volte perché hai usato flash eh se sblocchi più punti la prossima volta ne rischi cos'è successo erica da verica non lo so ma sempre sta donna del capo lasciatela devi farla finita è scappata lei è un'aliena di bam ok salvo e niente ma se potete andare voi vuoi fare poi i punti bravo adesso disegno subito quanto segniamo quanti soldi abbiamo fatto noi se abbiamo fatto comunque abbastanza soldi che erano diversi robot ok qui siamo a 302 390 simone presente daniele presente massimo presente andiamo qua cioè massimo te hai 93.000 daniele 105 perché non ha mai usati ma che massimo l'hai anche usati parecchio 5.000 deviamo tenere un po' perché ce ne troppi ok massimo hai deciso di sacrificare i soldi del suo robot perché è troppo pieno sì 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 perché deve diventare il tuo secondo robot sì ma non ho perso deve diventare il nuovo cecchino il nuovo protagonista a te sai che puoi mettere il tuo pilota in quel robot se vuoi in quell'aeroplano lì ma poi il pilota se ne va via poi il pilota lo puoi lasciar fuori oppure lo metti nel pilota nel robot del protagonista lo puoi scambiare di posto ma tutti possono andare nel robot del protagonista no scusami ma allora il robot rimane sì cosa succede il tuo protagonista è un diciamo un pilota di gundam per intendersi quindi può andare su qualsiasi gundam e penso qualsiasi pilota normale può andare sul tuo robot comunque non sono sicurissimo di questa seconda parte ma si può guardare subito no ma perché vuoi scappare no vabbè era per dire allora adesso dovrei scusate vabbè tranquilli ti facciamo sapere di questa cosa ah sì ok ok massimo allora grazie per essere venuto ci sentiamo la prossima domenica se ci sei va bene va grazie ciao massimo ciao 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 alla prossima ricorda di salvare si salvo si salvo si salvo ciao 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 ok quindi salvo anche qua e chi vuole cambiare chi adesso metto il pilota del reggizietta se lo trovo giusto per sperimentare ma non me lo fa mettere proprio si chiama non sono sicuro del nome sì ma non mi fa vedere il nome del robot ok no posso mettere lui su qualsiasi gunta ma non viceversa eh bravo su robot e protagonista ci può andare solo protagonista io metterei quello di massimo sul gunta che gli facciamo fare la sorpresa la prossima volta oh scusa già già non passa così se lo metti sul puntato è finita eh ma non passa perché siete tutti di livello artissimo va adesso non è più roto guarda là questo è il getter 16 16 16 chi c'è? no il getter è a livello 16 sì poi c'è Amuro che gioca mai sarà tipo 4 o 5 missioni che non gioca è a livello 14 questa è lecce quella lì che era nemica di l sì sì questa era quella lì che si è unita a noi che era di ti faccio vedere questa qua sì ma anche lei mi ha usato a quattro dicesimo livello questo è il massimo 14 questa qui 13 13 questo è tutto ti dà ancora Fabio pure 2 e 12 ma da ancora unito un ce l'ho da unito? sì però i personaggi ti li fa vedere caratteristiche separate perché te li puoi mettere sui veicoli no? quando sei separato sì ma bravi che la fine non è male il tipo boss dices ma per amore sono tutti abbastanza alti ora beh mazincazzetta non abbiamo più usato bisogna cominciare a scende sì daimos se la prossima missione te ti prendi per di il getta più un altro diciamo due massimo se ne prendi due io vi piglio il boss più l'astronave siamo già a quattro se ne fa scendere una decina si può scendere tutti gli ultimi qua 1,2,3,4,5,6 7,8 no vabbè poi scendere solo che non fai tanti punti eh quello è il fatto magari lascio e lascio e una missione fuori eh ti provo già qualcuno vedete tanto non lo può evidenziare comunque no ma solo fa comodo perché c'è fortuna ma adesso fortuna ce l'hanno diversi si ma adesso siamo stati sfigati che lo so l'ho tirato giù no va dire fortuna adesso comunque c'è in tanti ce l'hanno eh in tanti hanno fortuna adesso come bravo sta guardando ah si è trovato una ricarica da 50 abbiamo una ricarica da 50 2 da 150 ah che poi ci hanno dato anche gli oggetti insieme all'astronave ecco perché c'è un'altra armatura tipo quella vecchia che c'è di te da 150 di armature e 500 di vita questo è più uno di movimento più 5 di agilità ah questo è nuovo ah questo mi sa che vincotte vincotte fa comodo però va messo su qualcuno che non ce l'ha si ma va messo anzi su qualcuno che non usa armi all'energia perché sennò ogni volta che subisce un colpo li cala di 10 o di 20 è vero capito se no ti elusi no lo metto sulla nave bianca così mi protegge poi poi l'arma a mappa non la fa che va bene però cambi la strategia si mette quasi sul boss il bianca ma boss va colpo a colpo i sacchi di sparare un po' boss gli servirebbe magari l'armatura non so dai chi l'armatura ma vediamo ma se c'è quelli della velocità che se non chiappa nessuno dove è il boss e allora mi puoi levare vai potrei levare quello da poco più 5 più 10 di 5 metri più 5 di velocità c'è questo più 25 più 10 comunque per ora ha retto il colpo oggi non ha subito un niente neanche metà energia se no l'armatura lo sai la fila potrei dare quasi anche se lo beccano a un gundam cosa c'ha Fabio cosa c'ha Fabio Fabio c'ha un cannone più 1 anche lui c'ha la agilità che se no per becca e per becca e anche per evitare di essere colpito che è già abbastanza chi è qui e più a più 1 per digitata allora chi c'è poi si leva al più 1 digitata e gli si dà l'armatura no al più 1 digitata glielo voleva perché cioè quella la cosa buona è che spari senza che ti sparano dietro è meglio di schivare e meglio di averci l'armatura o l'armatura o l'armatura o l'armatura o l'armatura o lo zambo o tordaimos ah sa che magari non c'è niente se la vogliamo scende apro dite anzi dovremmo da sti oggetti a quelli scaccioni che scendiamo in teoria ogni volta quando scendiamo gli scaccioni dovremmo levare oggetti grossi a quelli che non facciamo scende no è vero se no non già fanno mai tipo vedi gp01 non c'è oggetti e le la ragazzetta che l'altro giorno è andata è scappata sulla stranolina non c'è niente dai dai qualcosa a gp01 vai dai si dà l'armatura vai l'armatura ma dai anche quell'altro che gli aumenta la velocità di 5 aumenta la velocità di 5 il movimento di 1 aspetta ma quello è già si muove veloce può fare un dac proprio veloce invece chi è che oggi a ardan koga aspetta ardan koga gli diamo e il movimento più una casella che è lento come il maiale e più 5 per l'agilità bravo che quello se no un chiappo mai dov'è l'agilità lo vedi se te lo chiara a te se lo vedi che lo vedi dan koga che 50 energia cos'è che gli doverà questo più uno sopra sopra questo questo che da l'edate poi e poi c'era l'armatura che si ha detto a gp01 si quella gli ha data no d'an koga va energia qualche cannoni no ricorda mi ricordo se però ci vuole 140 di morale vabbè comunque io ho tanta di energia consuma quel cannone lì dove da una ricarica tante ce ne abbiamo a spa queste ricariche si perché sono buono uso quindi si si le ha data a 50 per ora ci sono anche le ha 150 50 si allora gli ha data a 50 tanto non si sa se si c'è perché livello alto l'astronave cosa c'ha anche lei c'ha più di movimento p5 legilità e 2000 di recupero vita che si può alleva a 2000 e dai 150 di ricarica oppure lasciarla no sarà così recupero vita l'astronave è un buon supporto perché se magari una volta ci si trova tutti sopra bisogna scappare quello si allora gp01 cosa c'era rimasto di energia niente mi è arrivato cosa esce lì ah il coso bincotte devo dare gp01 no oppure da un altro o afrodite non so qualcuno vabbè però afrodite è un po' regge meglio no andando a gp01 va che è un po' più debole quindi allora vediamo se c'è afrodite A se gli è rimasto qualcosa la ricarica energetica non ci fa niente ma gli oggetti si possono assegnare anche prima della missione no è questo prima della missione ecco quella è la menata quindi non sai cioè se si gioca se si gioca e si perde capito dice ok sappiamo si può scaricare si guardiamo la registrazione quante se ne può scaricare vediamo più o meno i nemici che ci sono ci facciamo una tattica che quello è buono invece invece adesso la registrazione mica tanto se si perde vuol dire che ce l'hanno distrutti tutti eh si però te c'è la registrazione sai bene o male cosa puoi far no ti ricordi se te li distrugano te li parti dal salvataggio quindi non è che perdi soldi vabbè puoi anche continuare normalmente sai se no è il bello del Gio se no è un vincito no non è il bello perché riparti dal salvataggio comunque parte quello lì fammi fare la Saiyaka non c'è più niente giusto no eh c'è solo due ricariche da assegnare qua a qualcuno che adesso non mi viene in mente chi può usarle però c'è il daimos che va in energia e daimos va in energia non c'è l'attacchio energetico non fa tutti i pugni e poi anche lo jabot stream guarda c'è l'attacco energetico è lo finale d'ancoga però si lasciano lì poi ci daranno più avanti ah si ce l'ha l'energia cosa questo è il daimos mi pare si poi ora quando si muove consuma 5 dalla daimos fai da 150 c'è rimasto ora l'ho popolta imos già c'ha roba c'è c'è due dai dicariche da 50 ci ha già due da 50 vi posso mettere chiedere quell'altro ma zika cosa c'ha c'ha 2000 di vita e 150 ok ok gli l'ha detto una da 150 e una da 50 chi era quell'altro il zampo 3 no il zampo 3 non c'ha niente vedi mi si dirà dagli gli diamo tutte le energie una da 150 e una da 50 e siamo a posto ok risalvo sopra risalvo sopra e e potenziamenti non so vuoi far qualcosa no no il potenzia a nessuno per ora ok qui l'ho fatto il salvataggio notta mira sì qui bisogna cominciare a metterci almeno 100.000 da parte se non ora va abbastanza presto perché come si perde ci servono cosa 100.000 soldi solo per eventuali quarti che si allora io risalvo qua sullo slot 2 e direi che ci si può affermare giusto grazie di tutti a tutti chi ci è venuto a vedere sicuramente nella registrazione perché sulla live non vedo nessuno sulla chat a meno che sia stato qualcuno un po' timido e niente ci vediamo la prossima domenica grazie Daniele salutiamo Massimo ancora tanto si riguarderà la parte finale forse della registrazione alla prossima ciao 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 ciao